buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video di questo canale oggi video corto corto semplice semplice perché vi voglio far vedere un programmino che a me piace veramente un sacco mi piace tanto perché lo trovo molto molto efficace molto molto semplice se vogliamo e ma fondamentalmente molto intuitivo soprattutto per chi come me ha diversi dischi quindi diversi diversi hard disk ecco adesso vi faccio vedere vi spiego che cos'è questo space sniffer eccolo qua allora space sniffer ragazzi è un'applicazione gratuita che ci consente di capire come sono strutturate le cartelle e i file sui dischi utilizza un layout di visualizzazione vedete qui lo vedete a blocchi quasi si percepisce abbastanza bene trimap vale a dire che si identifica per per essere mappato ma ve lo faccio vedere che nel dettaglio è più semplice più è più semplice a capirlo che a spiegarlo ma comunque sia una percezione immediata va bene di di come i file sono posizionati all'interno delle cartelle ipotizziamo che voi dovete trovare che ne so non sapete esattamente su quel disco quale sono i file più grandi le cartelle più grandi che avete posizionato all'interno e magari volete dire come fate ad aprirle tutte se sono molto annidate questo software vi aiuta tantissimo proprio a fare questo tipo di lavoro ma non fa solo questo ricerca anche insomma ragazzi ve lo faccio vedere è veramente carino e ve lo voglio far vedere allora dunque qui avete questo è il sito vi lascio come al solito ragazzi il link in descrizione non vi preoccupate è un software ragazzi che sta in piedi dal 2000 è quindi 2000 quindi non è un software fatto ieri mattina e quindi sono un po di anni che c'è gira benissimo su 10 su 11 questo ve lo garantisco anche se qui vedete non è riportato dice testato su 2000 xp vista 7 o ma gira anche su 10 11 anche perché questo con cui sto ve lo sto a mostrare è windows 10 comunque nella parte download eccolo qua potete scaricarlo download from official mirror force force ab ve lo tirate giù una volta tirate giù ragazzi avete questa cartella zippata e avete questa cartella qua eccola facciamo un ingrandimento eccolo qui non so perché mi si vede così sfocato ma è poco importante eccolo qui space sniffer vi consiglio di avviarlo come amministratore si fa così tasto destro esegui come amministratore io l'ho già fatto poi vi spiego perché l'ho già fatto ed è questo l'ho già fatto per il semplice motivo che lui quando lo lanciate ci mette un pochino a scansionare il vostro hard disk e quindi io l'ho fatto per prevenire il fatto un pochino stiamo parlando di due minuti tre minuti però invece di aspettare ce l'abbiamo bello pronto qua voi mi direte ma che cosa sono tutti questi box e adesso ragazzi ve lo faccio vedere allora con questi due tastini ragazzi qua in alto vi faccio vedere cerco di ingrandire eccoli qua anche se vedo sfocato ma andrò a capire poi perché accidenti lo vedo così comunque va bene con questi tasti io non faccio altro ragazzi che cliccando vedete discendere quindi non vedo più tutto l'annitamento delle cartelline ovviamente se clicco il tasto more detail va bene vado ancora più nello specifico qui torno in chiedere immaginate un po un più e un meno ok quindi quindi lo mettiamo in questa posizione qua e andiamo a vedere i software come sono di dislocati quindi io ho qua dentro una cartella chiamata carlo di un giga e 8 cosa c'è qua dentro ci clicco vedo che ho dei download della musica dei video e dei documenti quindi ragazzi colpo d'occhio veloce so perfettamente so perfettamente dentro la cartella carlo che cosa ho e questo ragazzi secondo me è eccezionale quindi al volo riesco a capire va bene come sono posizionate le cose quindi qui magari dico musica una cartella musica ci clicco ancora sopra e vado nel dettaglio ragazzi vedete quanto è semplice album 2 album 3 questo è il contenuto di questa cartella ovviamente potrei anche farlo partire con running infatti mi sa che è partito ma semmai poi lo possiamo fermare se fosse eccolo lì si è partito ma ci importa poco comunque qui ho la parte video vedete qui ho la parte documenti e così posso andare a capire nella mia cartella carlo che cosa ho cliccando nuovamente sulla cartella casetta torno in home sarebbe presso che questa né più né meno quindi riclicchiamo qua dentro e ci ritroviamo aspettate eccola ci ritroviamo è questo volevo fare ci troviamo diciamo in un'esplosione di questa cartella un filino più alta quindi io qui vedete dentro windows ho tutta la parte di windows che è veramente ragazzi pazzesca va bene qui ho la mia cartella download dove ho 690 mega questo è interessante allora magari a colpo d'occhio vedo che qui c'ho 690 mega quindi è il caso che se devo vuotare pulire qualcosa apro questa cartella download e magari vado a pulire qui è una cartella wonder wonder shell film ora film ora è il software con cui io monto i miei i miei video non su questa macchina chiaramente ma sta anche qui magari non mi interessa su questa macchina vedete mi sta occupando un giga quindi un giga magari è tanto su questa su questo pc eventualmente posso andare a cancellarlo quindi ho vedete in maniera molto semplice ho un colpo d'occhio vedete più clicco e più vado nel dettaglio ragazzi ho un nel colpo d'occhio subito al volo vedo tutto l'annidamento della mia struttura del disco ovviamente tornando indietro come vi ho già fatto vedere prima in esco dal mio dettaglio questo mi rimane aperto facciamo perché mi rimane sempre aperto questo non dovrebbe rimanere aperto vabbè è rimasto così ma se lo chiudo dovrei chiuderlo vabbè comunque è rimasto così perfetto diciamo così forse ecco dovevo cliccare su c ragazzi e non l'avevo fatto pensavo di averlo fatto ma invece non l'ho fatto comunque e così vado diciamo nella 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 parte più più a più stretta tra virgolette mentre invece cliccando mi mi annido sempre di più un'altra cosa carina che ha questo software vedete qui ho tre quadratini colorati se ci clicco vedete che ho dei colori qua fateci caso ho dei colori se vado in edit configura eccoli qua style io posso andare a decidere provo a ingrandirlo eccolo qua posso andare a decidere come suddividere questi colori quindi volendogli posso dire all'audio a questo colore quest'altro le immagini video hanno quest'altro colore quindi a colpo d'occhio posso tranquillamente andare a capire va bene i file con quell'estensione che tipo di colorazione hanno ed è molto comodo anche nello specifico questo capito mentre invece ci riclicco nuovamente sopra e elimino la parte dei colori con la mia con questa stellina che vi faccio vedere ingrandendo eccola qui con questa stellina cliccando mi fa vedere lo spazio libero del mio hard disk che sono 36 giga come vi dico sempre questa è una macchina virtuale quindi non è enorme e invece nella ricliccando lo vado a sganciare nella nella come si chiama in quest'icona fantasmina ho la mia parte di file che non perché non me la fai vedere non me la fa vedere forse questa dov'è aspettate ragazzi buoni tutti non me la da comunque sia mi dovrebbe dare qui aspettate forse andiamo un attimo più nella leviamola non me la da qui mi dovrebbe dare mi dovrebbe comparire la parte che non è accessibile al disco quindi mi compare una finestra azzurrina e mi dice questa parte non è accessibile poi che andiamo a capire perché ma l'importante che voi capiate adesso a prescindere il fatto che il tastino non mi va e la cosa francamente mi così insomma mi innervosisce un po ma va bene così insomma apprezzate la buona la buona volontà e credetemi da qui vi fa vedere la parte che il il software non va a scandalizzare ma comunque oltre a quello a una cosa secondo me anche non da poco il fatto che posso cercare questa è una gran figata se io vado su filter ragazzi ecco ve lo faccio vedere qui scusate ragazzi oggi oggi è così eccola lì in questa parte qui filter ragazzi eccola lì io posso fare posso fare asterisco punto jpg eccola qui me la ingrandisco va bene asterisco punto jpg bene schiaccio enter e adesso lui mi va a cercare nel mio disco tutte le parti che sono dove ci sono dei file jpeg vedete aspettate andiamo nel dettaglio così che è un pochino meglio eccoli qua e lui qua adesso mi dice che di file jpeg io li ho divisi qui dentro ho questi file jpeg quindi ho 8 mega 3 mega 4 mega 11 mega 16 mega e così via se cambio jpeg e ci scrivo mp3 file audio chiaramente che presumo conoscete tutti e do enter allora vi accorgete che a questo punto i file mp3 sono diversi una cartella music che vi ho fatto vedere all'inizio dove ho 191 mega di file musica e qui ho un file document dove qui dentro ci sono dei file audio ma posso fare ancora di più perché qua io li potrei anche dire mettendo una un punto e virgola così come è messo gli posso anche dare maggiori magari di un mega e a questo punto lui non mi trova presso che nulla minore scusate di un mega non mi trova nulla ma se cambio l'operatore allora a questo punto vedete così abbiamo trovato delle altre informazioni importanti quindi è molto potente posso andare posso davvero trovare trovare un sacco di informazioni ma posso dirgli anche ragazzi queste cose stanno tutte scritte comunque sul sul diciamo sulle caratteristiche di questo software ma sono comunque semplici posso dargli addirittura un operatore di questo genere che ne so un anno i ars vediamo così e lui mi trova tutti i file va bene che hanno più di un anno volendo posso cambiare questo per l'operatore lasciamolo così mettiamo due anni e possa andare avanti capite cioè lui mi ricerca addirittura mi fa anche questo tipo di scansione e se vedete qui in altro ovviamente lui sta rifiltrando guardate ve lo ingrandisco eccolo qua vedete questo è l'inizio che io non vi ho fatto vedere perché altrimenti la scansione sarebbe stata troppo lunga adesso leviamo tutto rifacciamo enter e rifacciamo di fare una scansione completa magari facciamo una più piccola così dovrebbe far prima senza farci vedere tutti quei miliardi di boxini vedete qua sta andando avanti e sta rileggendo insomma ragazzi il software è molto semplice le funzioni sono minime le operazioni da fare sono veramente semplici semplici nella pagina iniziale guardate in questa pagina iniziale che vi ho fatto vedere prima trovate tutte le informazioni perché qua è abbastanza semplice vedete a eccolo guardate mi fa vedere example aspettate ve lo evidenzio qua sotto e ve lo ingrandisco eccolo qua vedete punto jpeg oppure maggiore oppure minore insomma potete addirittura potete dargli il colore il colore se volete farvi vedere solo quelli che hanno magari il colore di un certo tipo insomma le le variabili di ricerca sono molteplici e secondo me incastrando le soprattutto tra le dimensioni tra scusate l'estensione del file come potrebbe essere jpeg mp3 mp4 quello che volete voi con le dimensioni potete addirittura entrare nello specifico abbastanza bene adesso lui vedete qui c'è scritto ready ve lo faccio vedere meglio eccolo qua a questo punto io posso tranquillamente riandare a esploderlo ancora di più e andare poi nello specifico oppure ritirarlo fuori niente ragazzi io il programma è tutto qua video corto e se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel like iscrivetevi al canale perché la maniera per supportarmi davvero davvero molto gradita così andiamo a dire a google che magari i contenuti che faccio vi piacciono questo è per me essenziale fondamentalmente suggerimento ottimizzatore possiamo chiuderlo che non ci interessa e niente penso che a questo punto il video finisce qui come vi ho detto prima registratevi un bel like commentate ragazzi e noi ci rivediamo al prossimo video